inizia così il tour dell'appartamento di oggi in questo video vi mostriamo la nostra casa e il quartiere dove abbiamo vissuto un mese in una delle città più affascinanti del sud est asiatico quindi mettetevi comodi e godetevi il tour in realtà il tour durerà pochissimo perché davvero piccolo questo appartamento però ci siamo trovati davvero davvero tanto bene quindi ve lo vogliamo consigliare vabbè iniziamo subito l'ingresso l'avete già visto e siamo già in cucina praticamente con questo tavolo però davvero molto comodo ci siamo messe a lavorare parecchie volte perché ha quattro posti e quindi siamo trovati stra bene e la nostra piccola cucinetta che ci ha aiutato un po nella dieta mediterranea con un po di pasta al sugo ogni tanto e soprattutto la nostra affezionatissima come avete visto forse dall'intro macchinetta che abbiamo comprato apposta dall'italia per l'induzione perché qui usano quello principalmente e niente ci ha dato dei gloriosi risvegli quindi data e poi c'è il saluttino questo anche questo super utilizzato come divanetto relax è molto carino poi perché c'è sia il tavolo che questo divanetto e riusciamo a stare nella stessa stanza anche quando uno dei due al computer quindi carino qui poi abbiamo una televisione che però non abbiamo mai praticamente utilizzato lo cedo ogni tanto per vedere un po di canali e qualche canale in inglese lo prende e di qui abbiamo anche un balconcino molto piccolo anche questo però è stato utilissimo anche perché su questo piano la diretta abbiamo richiesto noi abbiamo anche la lavatrice che c'è stata utile anche quella in un mese e da salotto percorriamo questo lunghissimo corridoio ci siamo in camera da letto non è molto spaziosa però comoda dai c'è il suo belletto non tra i più comodi ma nemmeno scomodo possiamo dire una via di mezzo dai per me potrebbe essere un pelino duro ma lo preferisco a letto troppo morbido ecco quindi alla fine alla fine è andato bene dai non mi sono svegliato con mal di schiena c'è anche un armadio che tra l'altro abbiamo la mia sempre adorata safety box dove custodiamo comunque le cose più importanti quando non siamo in camera e poi vabbè abbiamo questo armadio comodo dove comunque abbiamo messo i nostri abiti per questo mese e abbiamo anche questa scrivania che in realtà non abbiamo mai utilizzato come scrivania perché il tavolo che c'è nella zona da pranzo è comodo per tutti e due ed è molto più largo questo è diventato un porta oggetti alla fine un appoggia oggetti e poi abbiamo il nostro bagnetto non molto grande però anche questo comodo e funzionale allora ragazzi questo posto si chiama park 19 residence si trova praticamente a metà strada tra la tonglor road e la ekamai road quindi potete scegliere se fermarvi a tonglor dalla bts o ekamai si trova proprio al centro delle due strade principali che rende questa posizione ideale perché siamo vicini a tre supermercati uno anche aperto 24 ore abbiamo i 7 11 qui a cinque minuti di distanza uno a destra da questo residence l'altro a sinistra sempre da questo residence quindi nel senso non mancano le alternative se no davvero molto comodo tra l'altro abbiamo anche le palestre vicino che abbiamo usufruito dalla palestra jazz 24 per il costo di 84 euro tutto il mese per entrambi l'accesso 24 ore e 7 giorni su 7 bello dai questo appartamento noi per l'intero mese l'abbiamo pagato 800 euro che include due bottigliette d'acqua al giorno le pulizie tutti i giorni il cambio degli asciugamani quotidiano e tre volte a settimana vi cambiano le coperte quindi comunque nel senso sia sia un ottimo servizio anche perché non ci dobbiamo preoccupare di fare noi le pulizie e ovviamente sappiamo che non sono più i prezzi dello scorso anno perché comunque banco che in generale la thailandia è riaperta poi soprattutto banco che è molto più affollata e quindi i prezzi sono comunque lievitati notevolmente rispetto a inizio anno abbiamo scelto questo questo tipo di sistemazione anche perché in molti altri posti ci chiedevano la caparra di un mese e non ci sembrava diciamo il caso di lasciare impegnati un mese diciamo di affitto per poi riprenderlo visto che avevamo un periodo di affitto appunto breve che è un mese perché ovviamente voi sapete che più affittate per lungo periodo e riuscite comunque risparmiare perché gli scalano qualcosina il prezzo scende se fate contratti di 6 mesi o 12 mesi il prezzo scende anche del 20 30 per cento noi ovviamente abbiamo fatto solamente un mese tra l'altro non so se l'ho menzionato prima comunque negli 800 euro al mese sono inclusi acqua ed elettricità quindi se lasciate andare il condizionatore tutto il giorno e volete farvi la doccia calda nel senso è tutto incluso non vi viene chiesto niente al check out ecco niente di più si oltretutto ci siamo trovati benissimo perché lo staff è super gentile e qualsiasi cosa chiediamo comunque si preoccupano di mettercela a disposizione ad esempio non so abbiamo chiesto lo stendino perché ci veniva comodo per giusto lavare quelle due o tre cose e qua ovviamente fa caldo quindi basta che si lascia fuori lo stendino per mezza giornata e si trova la roba asciutta e ce l'hanno portato non so abbiamo chiesto il tagliere un coltello magari un po più affinato e ce l'hanno comunque messo a disposizione quindi ci siamo trovati bene anche da quel punto di vista e considerate che comunque siamo in un periodo di alta stagione qui e Bangkok è sempre di più affollata quindi ci è sembrata un'ottima soluzione poi un'altra cosa che vogliamo dire è che la struttura presenta i suoi segni di invecchiamento però comunque sia le lenzuola le coperte sono sempre state pulite impeccabili su questo quindi a noi è proprio la priorità numero uno sentirsi proprio a proprio agio a letto e dopo che ci si fa la doccia con quegli asciugamani sempre puliti e profumati per noi è una priorità assoluta e su questo non possiamo dire niente di negativo perché da quel punto di vista è andato tutto tutto bene tra l'altro comunque noi ci siamo guardati intorno nella zona e abbiamo visto che comunque questa struttura è bene allineata con quello che la zona di Tonglor e Dekamai offre soprattutto per questa fascia di prezzo sì esatto ci siamo trovati molto bene sì sì inoltre un altro servizio che offre questo residence è la piscina che ha una piscina qua proprio in questo piano dove siamo noi dopo ve la facciamo vedere tra l'altro non abbiamo mai avuto tempo di utilizzarla peccato no infatti però ve la facciamo vedere fra poco e il servizio di Tuk Tuk che va dalle 8 di mattino alle 5.45 di sera tutti i giorni sì e vi porta nelle stazioni BTS più vicine quindi Eka Mai e Tonglor vi porta nei supermercati più vicini e in qualche spa in qualche mall quindi è ottimo anche come servizio ecco un'altra cosa che volevamo precisare è che per noi non è assolutissimamente un problema camminare anzi lo facciamo molto volentieri però per tanti può essere un po' fastidiosa diciamo questa cosa qui la distanza che c'è tra la residence e la BTS che sono circa 20-25 minuti a piedi esatto noi addirittura vabbè siamo anche esagerati perché arriviamo fino all'assù con bit praticamente a piedi che sono tipo cos'è un'ora no 50 minuti esatto quindi vabbè per noi non è un problema e fatto soprattutto sul lungo periodo come l'abbiamo fatto noi non era proprio così importante come cosa esatto diciamo che se venite qua per 3-4-5 giorni potrebbe non essere la soluzione ideale perché magari volete stare vicino ai principali mezzi di trasporto come appunto la metro o la BTS ma per il lungo periodo non è sentito assolutissimamente diciamo il disagio di stare a 20-25 minuti da questi mezzi di trasporto che sono comunque per noi facilmente raggiungibili ok detto questo andiamo fuori a vedere la piscina andiamo è stato un po' un peccato non approfittare di questa bella piscina lunga perché domani facciamo il check out e non l'abbiamo mai utilizzata e vabbè eravamo impegnati a fare tutt'altro ma ci sarà modo di godersi un po' di mare anche in questo viaggio adesso vi facciamo vedere anche la piccola palestrina che questo residence offre anche se noi non l'abbiamo mai utilizzata perché comunque io ho bisogno di qualcosa un po' più professionale però se non avete grosse esigenze questa va bene dai ecco come vedete la panestra è piccola cioè ci sono giusto due tapis roulant una panca e qualche manubrio non è nulla di che però per fare magari qualcosa se non avete grosse pretese va bene questo residence si trova in una via molto tranquilla ma circondato da caffè ristoranti e molti locali ecco ragazzi quindi questa è stata la nostra casa per un mese qui a Bangkok si ogni tanto ci piace portare anche qualche video di informazione dove comunque condividiamo la nostra esperienza per quanto riguarda l'accommodation o magari eventuali trasporti e non solo mostrarvi quello che facciamo ma anche appunto questo tipo di contenuto che sicuramente molti di voi troveranno comunque utile si infatti spesso ci scrivete appunto consigli su dove stare che zona è migliore e questa ci sentiamo di consigliarvela se voi avete bisogno di chiarimento qualsiasi cosa scriveteci nel box dei commenti e noi siamo felici di rispondervi noi ci vediamo alla prossima ciao grazie ciao Grazie a tutti.